Chiedo il ripescaggio per un semplice motivo Questo per me è un'opportunità molto importante per comunicare Quindi poter dire ancora qualcosa a qualcuno che mi può venire ad ascoltare Quindi chiedo solo questa opportunità Ripescatemi Grazie Se vuoi ripescare questo talento Clicca ora mi piace al posto originale del video Oppure condividilo